ZTL sì, ma con distingo e idee diverse che vanno assolutamente conciliate perché il provvedimento che si intende realizzare a Pagani abbia successo. Le prime differenti visioni sono dei commercianti, c'è chi crede fermamente nella zona traffico limitato e chi vorrebbe relegarla solo giornate in ricorrenze specifiche. Abbiamo chiesto di sperimentare facendo mediante un progetto pilota a Piazza Sant'Affonso che ci sembra la piazza con maggiore vocazione, con maggiore flusso di persone e altresì con maggiore attività, quindi pubblici esercizi, di conseguenza chiudere quella strada comporterebbe uno start-up vincente, un flusso di persone che si abituerebbe ben presto e sarebbe più che felice di una ZTL per poi piano piano, subito dopo il mese di maggio, allargare anche alle altre strade, via Marconi, il primo tratto di via Cesarano, Corso Padovano e poi... Noi siamo contrari alla ZTL senza programmazione, quindi vogliamo fare un progetto specifico che riguarda la zona più commerciale di Pagani, scegliere una zona più commerciale, fare un progetto specifico che riguarda i giorni solo nei weekend, un programma di attività, di iniziative, di promozioni, un'opportuna pubblicità perché questo paese ha bisogno di uno shock. L'amministrazione comunale crede però in questo provvedimento che dovrebbe segnare il rilancio del commercio e dell'economia paganese. Dalla ZTL potrebbe scaturire un centro commerciale naturale che mette insieme i negozi del corso. Se vogliamo sperimentare ancora secondo me non è più il momento, abbiamo la necessità di intervenire e poi magari la corrigiamo, eventualmente c'è qualche cosa che non va. Però adesso bisogna essere concreti, nel frattempo che avremo l'autorizzazione complessiva, possiamo immaginare di fare non tutti i giorni ma un tre giorni a settimana solo per alcune zone, però ecco la città lo vuole, la città lo chiede, i cittadini vogliono passeggiare in tranquillità, vogliono fare shopping in maniera sana e naturale e noi glielo dobbiamo consentire. ZTL, centro commerciale naturale, sono tutte cose che vanno a incastro e vanno a favore per la collettività e soprattutto quelle che sono le attività produttive del nostro territorio. Indispensabile appare anche il parere dei cittadini. I cittadini sono molto d'accordo, anzi stanno aspettando, sta benedetta ZTL che proprio per problemi tecnici fino ad adesso non è ancora partita, l'abbiamo fatto in fase sperimentale nel periodo delle festività natalizie e mi sembra anche con ottimi risultati.